Tra poco Sul canale 17 di Fano TV L'informazione locale Via la catenina d'oro dal collo di un passante Donna rintrecciata e denunciata dai carabinieri Al porto apre il mercato del pesce a miglio zero E la concorrenza spaventa i commercianti dello storico mercato di Piazza Andrea Costa La notte rosa anche a Fano Ecco che cosa ne pensano in Fano Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Ben ritrovati Cominciamo dalla cronaca A Fossombrone i carabinieri hanno denunciato una giovane donna di 35 anni Che aveva derubato un passante della catenina d'oro Aveva un comportamento anomalo e sospetto La donna venente prosperosa Che lunedì scorso si aggirava velocemente tra le bancarelle del mercato Per questo non è passata inosservata dai carabinieri di Fossombrone Che hanno deciso di seguirla fino a raggiungerla in un vicino parcheggio Ad attenderla il marito e il figlio giovanissimo a bordo di una berlina di lusso Hanno voluto vederci chiaro i militari che hanno accompagnato la famiglia negli uffici della caserma Dovendo poi aspettare il personale femminile per la perquisizione della donna I tempi d'attesa si sono allungati Nel frattempo è arrivato un 61enne forse impronese Che ha chiesto di poter denunciare un furto subito poco dopo Appena varcato l'uscio ne vede l'autrice seduta in sala d'attesa Invitato a riportare con calma quanto accaduto L'uomo racconta di averla incrociata ad un bar del centro Dopo averlo avvicinato la 35enne gli ha chiesto un passaggio in auto Per recarsi in un vicino supermercato Ma una volta giunti sul posto lei per riconoscenza lo abbraccia calorosamente Per poi chiedergli di riportarla nel luogo in cui si erano incontrati Solo dopo averla fatta scendere dall'auto Il malcapitato si accorge del fatto che la sua catenina Con tanto di crocifisso in oro massiccio non c'era più Le perquisizioni dei carabinieri poi non hanno avuto l'effetto sperato Notoriamente chi compie questo tipo di furti si muove in batteria E quindi appena messo a segno il colpo consegna la rifurtiva a un complice Per rendere difficoltoso il recupero La rumena, residente a Corciano in provincia di Perugia Con precedenti specifici è stata denunciata in stato di libertà All'autorità giudiziaria E allora sabato prossimo Afano inaugura un nuovo mercato del pesce Questa volta a chilometri zero Verrebbe da dire se si trattasse di un mercato con prodotti della terra Ma siccome sono prodotti ittici Allora adesso è stato denominato a miglio zero Ebbene un mercato che però sta già facendo discutere Un mercato ittico al centro del porto di Fano Quella caratteristica di essere a miglio zero Cioè direttamente dal pescatore al consumatore senza intermediari È l'iniziativa di Coldiretti Impresa Pesca Che sabato 14 marzo alle ore 9 inaugurerà la nuova struttura Collocata nella darsena centrale È stata realizzata grazie alla collaborazione del GAC Marche Del Lati Fano con il gruppo Pesca Servizi Negli otto banchetti i fanesi proporranno prodotti di stagione Dalle sepie alle triglie fino a cozze, vongole e scorfani Noi non vogliamo fare concorrenza al mercato È solo un sistema per poter valorizzare il nostro prodotto a miglio zero Sono le piccole imbarcazioni che devono cercare di pescare tutti i giorni Quando il tempo lo permette In modo che possono fare reddito Altrimenti con le mareggiate e i tempi avversi Non riuscirebbero a fare reddito Perché portando il pesce al mercato all'ingrosso Pochi quantitativi non riescono ad avere un ritorno economico E così non hanno una sopravvivenza per i piccoli pescatori Per l'occasione sarà presentato un vademecum Per aiutare i cittadini a scegliere il prodotto più adatto al periodo Assieme ai consigli per riconoscere quello fresco All'inaugurazione saranno presenti il responsabile nazionale Coldiretti Impresa Pesca Tonino Giardini Il presidente del GAC Market Arcisio Porto E ancora il direttore della Cordiretti Pesero Urbino Paolo Di Cesare Il comune e le autorità portuali Pesce fresco ma non solo Perché questo nome? Perché aderirà anche alla Coldiretti con i loro stand di frutta, verdura, formaggi e quant'altro Ma ci sarà una convenienza anche per quanto riguarda il prezzo? Come no? Sì, è logico Un prezzo minore di qualche euro sicuro Dunque in che giorni starete aperti? Tutti i giorni della settimana, tempo permettendo Con che orari? Dalla mattina a sette e mezza fino a mezzogiorno, l'una Questo vi permette di poter vendere pesce durante tutta la settimana Invece prima quanti giorni lavoravate? Due o tre giorni solo, la settimana perché il mercato era chiuso Non potevamo vendere la domenica in regola, quindi era poco, non coprivamo le spese praticamente Valorizzare il prodotto locale, sensibilizzare i consumatori sul concetto di stagionalità E lavorare sette giorni su sette sono gli obiettivi del nuovo mercato ittico al porto di Fano Ma gli imprenditori presenti da anni in piazza del pesce e in pieno centro storico Che cosa ne pensano di questa imminente inaugurazione? Oggi abbiamo chiesto il loro parere Ci sarà un primo momento dove la gente è incuriosita e quindi va a vedere o pensa che laggiù Siccome la vendita diretta dei marinai magari è più fresco di qualche ora Però alla fine si stabilizza tutto poi Penso che sia solo una curiosità iniziale Anche perché c'è un fatto, i marinai hanno sempre venduto direttamente dalla banchina in certi modi E francamente per me forse è meglio che lo facciano in modo corretto Insomma con tutte le strutture necessarie E quindi anche in modo dichiarato Poi è chiaro che è una presenza in più nel mercato Ci dividiamo le cose Secondo voi faranno concorrenza? Sì, un po' di concorrenza sì Però più o meno come prima Perché prima lo vondevano lo stesso laggiù il pesce Non erano in regola come adesso Quindi non siete tanto preoccupati? Un pochino sì, qualcosa ci tolgono Ma non più di tanto penso Più o meno come prima Signora, lei ha paura della concorrenza? Eh beh, penso di sì Perché già che c'è poco lavoro e tanta crisi Certamente ci metterà proprio male Perché tanto la gente C'è il parcheggio, c'hanno tutte le geolazioni Qui proprio morirà È un peccato però far morire il mercato A Fanno Il mercato è questo Credete che vi possa portar via della clientela a questo nuovo mercato? Ma io penso proprio di no Perché la base è questa Piazza Andrea Costa La gente viene qui a comprare il pesce Quindi ormai avete una clientela affezionata? Sì, sicuramente Beh, staremo a vedere Anche se la prima risposta probabilmente è quella giusta La Notte Rosa adesso La Notte Rosa che contagia anche Fanno E pare che questa iniziativa Stia riscuotendo consensi un po' in tutta la città E allora siamo andati a sentire il parere dei commercianti E dei giovani fanesi La magia sarà il filo conduttore della decima edizione della Notte Rosa Una sorta di capodanno dell'estate In programma venerdì 3 luglio Lungo i 110 km di costa tra la riviera di Comacchio e Cattolica Centinaia saranno gli eventi dal tramonto all'alba E da quest'anno per la prima volta Verranno coinvolti anche i territori della provincia di Pesero e Urbino Infatti sulla proposta di estendere l'evento riminese anche nelle Marche L'iniziativa ha riscosso consensi sia da parte del sindaco di Pesero Matteo Ricci Sia da quello di Fanno Massimo Seri Che sta valutando sotto ogni punto di vista La possibilità di entrare a far parte di questo circuito Dalle grandi potenzialità, ha detto il primo cittadino Strategico dal punto di vista promozionale ed economico Per tutto il sistema produttivo locale Ma d'altra parte sentiamo se i cittadini e gli esercenti del centro storico Concordano con il sindaco La Notte Rosa ha un'opportunità o un rischio? Non lo so, non lo so perché bisogna vedere che intenzioni ha il Comune Noi per quel giorno abbiamo la Notte dei Saldi come comitato Che è una manifestazione, questo è il quarto anno che facciamo Insomma un piccolo successo l'ha avuto Bisogna vedere il Comune cosa ha intenzione di fare Se investirci o no, se siamo all'interno del network Notte Rosa potrebbe anche essere un'opportunità Se invece siamo marginali assolutamente no Può essere una buona occasione per voi? Sicuramente sì perché credo che appunto se la Notte Rosa è organizzata bene come Sanfare sicuramente in Romagna E quindi ci possono dare anche tutti gli spunti del caso Credo che questa per noi sia una grossissima opportunità da sfruttare Quindi cercare di collaborare come è logico che venga fatto per tutti Per riuscire a portare tanta gente anche da noi Potrebbe essere secondo lei una bella occasione? Potrebbe essere una bella occasione soprattutto per il centro Però secondo me c'è qualcosa che non va con le varie idee passate di chi adesso sta gestendo il Comune Anche il consigliere comunale di minoranza Stefano Aguzzi è stupito delle affermazioni del sindaco Massimo Seri Colui che quando Aguzzi era il governo della città giudicava negativamente la Notte Bianca Pienamente d'accordo che si riproponga una bella iniziativa che noi abbiamo portato avanti per diversi anni Sembra di essere nel paese delle meraviglie perché il centro sionista ci ha sempre criticato per questa iniziativa Adesso la propone, comunque mi fa molto piacere Un evento che funziona? L'economia potrebbe essere un evento che funziona se venisse fatto nel modo corretto Visto che qualche anno fa la Notte Bianca non ha portato niente di buono a quanto pare Può essere un'occasione per cercare di far vivere questa città Almeno staremo qui senza andare sempre a Riccione e Romagna Nel caso in cui dovessero fare la Notte Rosa qua a Fano parteciperete all'evento? Penso proprio di sì, speriamo che sia una bella serata e niente, ci siete tutti invitati Soprattutto bisognerà fare bene i conti, costi, benefici Allora, torniamo a parlare adesso del Consiglio Comunale di martedì scorso Durante l'approvazione del codice etico alcuni consiglieri sono usciti dall'aula in segno di protesta per la bocciatura della Commissione sulla Profilglas Ma i grillini assicurano che il codice verrà comunque sottoscritto anche da loro In chiusura di seduta dell'ultimo Consiglio Comunale di Fano si è accesa una discussione martedì scorso sulla richiesta avanzata dal Movimento 5 Stelle di istituire una commissione speciale di indagine per valutare la situazione urbanistica e ambientale della ditta Profilglas e dell'intera zona di Bellocchi in cui essa opera Richiesta sostenuta anche dal consigliere comunale Giancarlo Danna che ha trovato subito contrario il Partito Democratico, noi città e noi giovani Sinistra Unita invece ha deciso di astenersi Il motivo della bocciatura è stato motivato ieri con queste parole dal Presidente Renato Claudio Minardi Perché i consiglieri comunali hanno tutte le possibilità e tutti gli strumenti per poter verificare con l'accesso agli atti ogni atto, ogni documento, ogni delibera ogni determinazione che è stata adottata o fatta da parte sia della Giunta che del Consiglio che anche da parte dei dirigenti del Comune di Fano Per questo durante l'approvazione del codice etico che stabilisce per chi lo sottoscrive di vieti nell'accettare regali e regole sul conflitto di interesse e sulla corruzione Danna i consiglieri di progetto Fano e i grillini hanno abbandonato l'aula una protesta, la loro non contro il codice che come assicura Ruggeri sottoscriveranno ma per il rifiuto della maggioranza di istituire la commissione d'inchiesta Assolutamente lo sottoscriveremo visto che una volta passato in Consiglio Comunale il codice etico ha bisogno di una sottoscrizione da parte dei singoli consiglieri Tra l'altro vorrei anche sottolineare che noi 5 Stelle al momento della candidatura già sottoscriviamo un codice etico che è molto più stringente rispetto a questo del Consiglio Comunale Infatti abbiamo visto che ci sono dei punti che mancano e che secondo noi sono molto importanti e il fatto che non ci siano è significativo Innanzitutto l'amministratore si impegna ad evitare anche il cumulo dei mandati politici e degli incarichi pubblici L'amministratore deve rendere pubblica la propria appartenenza ad associazioni e organizzazioni anche di quelle di carattere riservato quindi c'è un implicito riferimento alla massoneria L'amministratore deve astenersi da richiedere o da ricevere finanziamenti da parte dei concessionari o gestori di pubblici servizi E' rimasto semplicemente nel codice etico del Comune di Fano solo il fatto che non si possono prendere regalie ma non finanziamenti Quindi la mancanza di questi tre punti secondo noi è grave però comunque lo sottoscriveremo in pieno Per continuare la raccolta di firme sulla legittima difesa Sabato prossimo Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Fano torna in corso Matteotti sotto i portici Gabuccini L'iniziativa si svolgerà sempre dalle 10 alle 13 ha già portato la raccolta di 450 firme Il loro obiettivo sarà quello di chiedere al prefetto e al ministro degli interni più agenti nella città di Fano per una maggiore sicurezza, un maggior controllo e prevenzione del territorio Il passaggio di un mega yacht questa mattina verso le 8.30 sulla statale 16 Adriatica in zona Fano Sud ha causato code e disagio a tanti lavoratori automobilisti e pendolari I ritardi si sono registrati anche su alcuni autobus di linea come il 35 Pergola Fano che è rimasto in coda all'imbarcazione ed è arrivato in ritardo alla stazione di Fano rispetto all'orario previsto Se da una parte il passaggio degli yacht va visto come un segnale di ripresa dell'economia dall'altra ci si domanda come mai questi trasporti eccezionali non vengano effettuati in orari diversi da quelli di punta per il traffico Il prossimo fine settimana si celebra la giornata nazionale dell'Unitalsi Per l'occasione la sottosezione di Fano sarà presente in diversi punti della città per distribuire una piantina di olivo simbolo di questa iniziativa Pellegrinaggi, progetti di solidarietà in Italia all'estero, assistenza domiciliare agli anziani, case famiglia per le persone disabili, soggiorni estivi e interventi d'emergenza sociale Sono solo alcune delle attività attraverso le quali l'Unitalsi, Unione Nazionale Italiana Trasporti ammalati a Lourdes, Santuari internazionali, abita le periferie della fragilità, della sofferenza e delle marginazioni, testimoniando la sua vocazione alla carità Aderendo alla giornata nazionale celebrata sabato 14 e domenica 15 marzo sarà dunque possibile annunciare la speranza a coloro che vivono il disagio e l'abbandono Il simbolo della giornata invece di cui è testimonia al Fabrizio Frizzi sarà una piantina d'olivo che verrà proposta come impegno per la pace e la fratellanza Anche noi della sottosezione di Fano abbiamo pensato di festeggiarla degnamente e abbiamo aderito alla campagna nazionale ordinando delle piante di olivo in miniatura che offriremo nelle parrocchie, nelle principali piazze e anche presso alcuni supermercati È un'occasione per conoscere l'Unitalsi e anche per dar modo alla popolazione di contribuire con una piccola offerta alle nostre necessità Il ricavato delle offerte sarà quindi utilizzato per sostenere i numerosi progetti di solidarietà in cui l'associazione è impegnata quotidianamente al servizio delle fasce più disagiate della popolazione grazie al costante e generoso impegno dei propri volontari L'Unitalsi si occupa di anziani, di disabili, di persone in difficoltà e abbiamo un grande bisogno sia di economico ma anche di tempo di persone che dedicano del tempo agli altri Questa è un'occasione per noi per farci conoscere quindi quando incontrerete delle persone in divisa davanti al supermercato o a una parrocchia avvicinatevi con spontaneità perché non necessariamente dovete acquistare l'olivo ma anche solo per prendere informazioni o anche per dare un supporto anche ai volontari che qualche volta hanno bisogno anche loro di un po' di carica Siamo in tempo di quaresima, confessionali aperti 24 ore nella Basilica di San Paterniano a Fano in occasione della giornata del perdono con Papa Francesco dalle 18 di domani, venerdì, per 24 ore in interrotte quindi fino a sabato alle ore 18 coloro che lo desiderano potranno confessarsi grazie a sacerdoti e religiosi che si alterneranno nell'accoglienza dunque a partire da venerdì 13 alle ore 18 per 24 ore fino a sabato sempre alla stessa ora nella Basilica di San Paterniano approda a Fano la mostra itinerante alla scoperta del Galeone di Pesaro sarà visibile e visitabile al pubblico dal 14 marzo al 3 aprile allo Yacht Club di Marina dei Cesari e alla Darsena Borghese si tratta di una mostra itinerante e di una raccolta fondi per mettere in sicurezza e rendere fruibile a tutti diversamente abili inclusi il relitto scoperto casualmente da due subacquee a circa 150 metri dalla spiaggia di Levante di Pesaro la Proloco di Cartoceto con la collaborazione del gruppo Carristi e il patrocinio del Comune organizza invece la seconda sfilata di Carnevale di Mezza Quaresima a Lucrezia domenica 15 marzo a partire dalle 14.50 con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale grazie per averci seguito arrivederci